Ormai dobbiamo guardare la squadra. La squadra è il nostro obiettivo di stare insieme, uniti e raggiungere quello che ci siamo prefissati. È inutile parlare più di pubblico, di spettacolo, perché se domenica abbiamo incassato 185 euro, oggi non abbiamo neanche passato i 100 euro. Quindi ormai è un problema che non mi pongo più. Consideriamo che oggi è mercoledì. Sì, 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 ma si vede. L'aria si vede. Abbiamo giocato altre partite di mercoledì e non abbiamo mai avuto questo vuoto. Ripeto, noi andiamo avanti. Prima o poi vinceremo anche questa sfida. E soprattutto l'obiettivo rimane sempre quello di salvare questa squadra? Noi ci dobbiamo salvare, ci dobbiamo divertire, giocare ogni partita come se fosse una finale e poi alla fine tireremo le somme.